L'importanza che do al titolo di campione d'inverno è quella che è a nessuna. Purtroppo è un puro dato statistico ma non ha nessun tipo di rilevanza. E' inutile appellarsi anche a una statistica riguardo il passato. Noi sappiamo che siamo cresciuti, sappiamo che per rimanere competitivi dobbiamo crescere ancora. Non sappiamo fino a dove possiamo arrivare, siamo un maratoneta che è a metà maratona. A metà maratona sta dicendo che per ora ce l'ho fatta, però c'è 21 km all'arrivo, quindi non lo so.